Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Fiskets. Oggi super airdrop, super progetto nuovo, interessantissimo. L'airdrop ragazzi quindi nel vostro portafoglio potete ricevere esattamente 90 euro, tutto in modo gratuito, quindi un airdrop fantastico, un progetto nuovissimo. Mi raccomando, è importante ragazzi, seguitemi attentamente tutto il video, quindi non lo schippate ragazzi che ci sono alcuni passaggi da fare molto importanti, sennò questo airdrop non lo riceverete, quindi mi raccomando seguitemi attentamente tutto il video e prima di farvi vedere questo, mi raccomando lasciate un bel like, iscrizione e campanella per supportare il video come sempre e iscrivetevi sul gruppo Telegram per rimanere aggiornati per quando si potrà scambiare questo token, aiutarci tutti insieme nei vari airdrop, nei vari social eccetera eccetera. Detto questo partiamo con l'airdrop, l'airdrop in questione, il sito in questione si chiama Fine Crypto Network, praticamente un nuovo sito ragazzi, un nuovo token fatto da questa azienda, praticamente incontra la migliore applicazione che include uno sviluppo interno, unico gioco di cripto finanza, quindi praticamente è un'applicazione di cripto finanza ragazzi, nuovissima, ok? Praticamente qui fa vedere tutti i loro sponsor, qui mi fa vedere cos'è Fine, è composto da un token e tutti i servizi tramite l'app, quindi praticamente è un token app, attraverso le cripto scambiare e tutto il resto. Questa è la distribuzione del token ragazzi, andate a vedere, io non me lo sto a leggere, questo è praticamente il contratto, quanto potrebbe valere ragazzi, cioè quanto varrà quando ci sarà l'airdrop, quindi praticamente il prezzo di partenza ora attualmente sono 5 centesimi dollari a una cripto, ok? a un fine praticamente, a un fine sono esattamente 0.05 dollari e poi quando sarà quotato saranno 0.30 centesimi di dollari o un fine, mi ricordo, cioè ricordatemi questa parola, un fine, perché dopo vedremo quanto varrà il token ragazzi. Praticamente la premendita è iniziata a giugno, giugno è già la premendita, ad agosto ragazzi finisce esattamente, quindi ci avete un po' di tempo per farlo ad agosto, finisce esattamente l'airdrop, quindi avete una settimana, una settimana e mezzo per farlo, ok? Ad ottobre finisce la premendita, quella in cui puoi acquistare, quindi praticamente te puoi avere gratuitamente fino agosto e puoi acquistarlo fino a ottobre. L'elenco di scambio finisce a ottobre, poi a dicembre ci sarà la, rilascerà l'app, tutta la versione beta, ci sarà lo sviluppo a febbraio del 2022 e a maggio ragazzi praticamente funziona il tutto. Quindi per farmi del breve, quello che interessa a voi, a maggio si potrà scambiare il token, si potrà appunto guadagnare questi 90 euro e fare tutte le cose, quindi ricordatemi a maggio 2022 dovrebbe essere sviluppato il tutto. Detto questo, qui andiamo a vedere la carta bianca, se volete avere qualche spiegazione in più e non ve la sto a leggere, dunque c'è la carta bianca, andate a vedere come funziona, come funziona nell'app, veramente l'app sarà su Google App Store, un sito, uno dei migliori idol, comunque veramente fenomenale. Allora, detto questo cosa fare? Link in descrizione qui in basso per accedere a questa pagina, attraverso il mio link che lo troverete o sul gruppo Telegram o qui in basso sotto il video su YouTube, vi apparirà questa pagina, molto semplicemente dovete andare qui a registrazione, un'altra a destra, io ho un mio account ma voi dovete avere un login, comunque eccetera, o andate su login o registrazione, se andate su registrazione vi apparirà subito la pagina, sul login poi andate in basso, c'è scritto praticamente SignUp, e vi fate registrazione, email e password, ricordatelo come sempre, una volta che avete messo le mail e password dovete appunto verificare le mail, quindi andare sulla sezione email, di solito vanno nella sezione spam perché le mail è così, andate alla sezione spam e vi chiedirà un codice e voi entrate in questo mondo del find crypto, ok? Praticamente voi startate con il bilancio a zero, perché ovviamente dovete fare ancora il light drop, qui ti dice che un find vale esattamente i 5 centesimi di dollaro, ok? Light drop in questione, no light drop, il pressile del token ragazzi finisce fra 37 giorni, eccetera. Allora, seguitemi attentamente tutto il video, che così a me non vi faccio vedere come prendere questo light drop. Qui potete acquistare, se qualcuno vuole acquistare questo light drop, che ovviamente conviene nel lungo andare, sembra un sacco di soldini, lo vedete, 100.000 find c'è un bonus, 30.000 e così via. Quindi se volete acquistarlo andate qua, pagate con il vostro racconto tutto il resto. Qui ci sono le transizioni, se andate a un buon file, qui il profilo, eccetera. Allora, prima cosa importante, ok? Dovete andare nella sezione profilo. Una volta che siete andate nella sezione profilo, qui vedete le mail e tutto il resto, qui vedete il vostro referral link se volete spammare, dopo vi faccio vedere cosa serve. La cosa importante da vedere è andare sul wallet. Praticamente, qui ci dice che una volta che, quindi si parla a maggio, quello che sia, una volta che volete essere accreditati e tutto il resto, dovete mettere qui l'indirizzo del vostro portafoglio, ethereum, un rc20, mi raccomando. Quindi andate su Binance, andate dove vi pare, andate su Metamask, TrustWallet, l'importante è che sia portafoglio, ethereum e rc20 per accreditare i fondi del token. Mi raccomando, dovete metterlo qua, aggiornare e siete a posto. Fatelo subito e immediatamente, così siete a posto. Il mio gettone, qui fa vedere tutti i saldi, eccetera eccetera. Ora ragazzi andiamo nel lato più importante, quello per avere questi 90 euro gratis. Andiamo nella sezione iDrop. Io ragazzi ho già fatto praticamente l'iDrop, ancora in lavorazione perché ci vuole, non so quanto ci vuole, ma penso un giorno, comunque qualche ora per vedere, l'ho fatto 10 minuti fa, per il processo. Praticamente, cosa ci dice che ci danno attraverso questo iDrop? 300, fine. Quindi praticamente fate un calcolo, fate un calcolo ragazzi, molto facile, andiamo a fare una coltatrice, 300 per ovviamente calcolo quanto varrà, quando sarà listato, per 0.30, molto semplicemente avete 90 centesimi, cioè 90 dollari, che sono 80-90 euro, cioè 80 euro, ragazzi ricevuti in modo totalmente gratuito a maggio. Quindi buono ragazzi, buono buono buono. Come avete questi 90 euro, molto semplicemente, qui c'è scritto devi solamente iscrivervi sul loro social, quindi andare sul loro Twitter, che c'è 50.000 persone, e mettere un follow, quindi molto semplice. Andare poi, il secondo qui, andare questo, andare su questa sezione qua, del loro Telegram Network, e vi iscrivete ragazzi, andate nell'altra sezione, e vi iscrivete anche questo. Una volta che vi siete iscritti sui loro gruppi Telegram, e vi siete followati su Twitter, praticamente, cosa dovete fare? Solamente, qui vi chiederà di mettere il vostro Twitter, il vostro Telegram, il vostro Twitter, lo trovate, andate sul vostro Twitter, quindi dovete avere per forza Twitter, andate su Twitter, andate su questa immagina qua, cioè sul vostro profilo, praticamente, sotto al vostro nome, c'è questa stanghettina qua, quindi praticamente dovete copiare e incollare questo ragazzi, sotto al vostro nome, ok? Poi, per avere il vostro nome di Telegram, praticamente dovete andare sulla sezione Telegram, io, però ragazzi, non lo posso far vedere, comunque dovete andare nel vostro Telegram, andare nella vostra foto personale, e una volta che avete il profilo, sotto la vostra foto ci sarà un, come si chiama, ci sarà una chiocciola più il vostro nome, e mettete quello. Se avete fatto tutti i passaggi a buon fine, voi non so quanto ci vuole, vi accritiranno questi 300 fine qua, quindi avete 300 fine, che vi qualgono attualmente a 0.05, che quindi sono già 15-20 euro, però appunto, se poi sarà listato a 30 centesimi, verranno a 90 euro. Lui ragazzi, più o meno vi ho detto tutto, grazie per avermi seguito, mi raccomando, se avete qualche dubbio, entrate nel gruppo Telegram, così vi spiego tutto in modo, come fare questi iDrop, state tranquilli che appunto, ci sono borrato il tempo qualche mese, però a maggio, sembra un progetto interessante, speriamo che appunto, non scambi, però nulla, nulla, grazie per avermi seguito, progetto 90 euro, e nulla, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, è importante lasciare un bel like, di supporto al video, iscrizione e campanella, road 500 iscritti, vediamo se ci si va, ciao ragazzoni, let's go, Grazie.